E' stata presentata questa mattina a Pescara l'edizione numero 37 dello Spoltore Ensemble che prenderà il via il prossimo 16 agosto. La manifestazione, patrocinata dal Consiglio regionale, sarà dedicata ai grandi figli d'Abruzzo, con la presenza di ospiti d'eccezione del mondo dello spettacolo, che saranno i protagonisti degli appuntamenti di teatro, cabaret e musica. Tra loro il cabarettista e attore Gabriele Cirilli, l'attore e regista Michele Placido, il maestro Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche della vita e bella, e poi, nella serata dedicata al grande teatro, ci sarà la partecipazione degli attori Edoardo Siravo, Deborah Caprioglio, Pino Amendola, del compositore Germano Mazzocchetti e di tanti altri personaggi del mondo del teatro e della cultura. Questo evento, ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, torna a essere una volta di più un riferimento per la vita culturale di tutta la regione. È difficile immaginare, soprattutto guardando al panorama nazionale del cinema e del teatro, dei nomi più prestigiosi di quelli che arricchiranno una passeggiata nel centro storico di Spoltore nel mese di agosto. Non bisogna trascurare il ritorno d'immagine che avremo grazie alla presenza di Piovani o Placido, tra i protagonisti dell'estate abruzzese. Iniziative come lo Spoltore Ensemble, ha sottolineato Sospiri, dimostrano che è possibile creare una sinergia sana tra le municipalità della nostra regione.